carissimi amici di gun passion 95 buongiorno in questa nuova modalità selfie siamo sempre qui nel mio salotto perché stamattina per farmi perdonare del fatto che sono stato assente nel mese di novembre avete visto caricato solamente un video partiamo subito a bestia questo dicembre questo freddo dicembre del 2017 perché adesso andiamo in armeria e vi farò vedere il mio regalo di natale quindi lo acquisteremo in diretta faremo vedere anche l'armeria con cui sto collaborando l'armeria del carissimo amico luca di target zone di fermo e niente quindi adesso mi sono incappottato per bene ho preso tutto il necessario non vi faccio vedere la strada perché ovviamente non posso attaccare il telefono non posso riprendere la strada mentre guido perché ancora non ho l'attacco appunto per riprendere tutto quanto a modi dash cam praticamente quindi niente a fra poco ci vediamo in armeria e spero che questo nuovo vlog speciale di natale arrivati a questo punto vi sia gradito ok ragazzi siamo arrivati in armeria non riprendo le macchine questa è l'entrata vediamo se ci sono persone perché se ci sono persone non posso riprendere però cercherò di fare il mio meglio iscriviti al secondo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi faremo un video di presentazione fatto per bene. Avete visto nel video un po' di attrezzature, l'armeria è fornitissima, facciamo una panoramica e poi faremo un video insieme all'amico Luca in cui ci spiegherà la sua attività. E questo è il regalino da Natale.